Mi trovo in città vecchia, Corso Vittorio Emanuele, proprio a due passi dal tartarugaio e mi è stata segnalata una situazione davvero incredibile. Vedete c'è uno scarico, non so di che cosa, se acqua, se fogna, se altra sostanza, che scende e crea anche una sorta di raccolta di acque, potrei definirlo un piccolo stagno, viste anche le acque putridi. Ma la cosa strana, vedete, è questo getto continuo di sostanza liquida che non so se essere acqua o scarichi di fogna o altro, non ho idea. Certo è che non è un fatto normale che da lì fuoriesca acqua, fuoriesca, pardon, questo liquido, non so, ripeto, di quale natura esso sia. Motivo per il quale mi rivolgerò agli organi di competenza in qualità di consigliere comunale perché bisogna capire cosa sta accadendo. Certo che questa è una zona davvero disgraziata in un primo tempo il discorso del sequestro del tartarugaio e poi vedete anche qui. Ma al di là di questa sostanza liquida che vedete scende a valle, c'è anche lì praticamente un acquitrino, una raccolta, dicevo, di acque stagnanti. C'è una piccola palude, uno stagno, un accumularsi appunto di melma, di sostanze appunto stagnanti. E vedete non è solo un piccolo tratto di acque stagnanti come inizialmente mi era parso, ma le acque stagnanti, vedete, disegnano una traiettoria, un percorso che è abbastanza lungo e si protrae proprio fino all'estremità del cosiddetto tartarugaio. Vedete tutta questa melma che cresce e arriva fino in fondo. E poi, come vedete, sfocia a mare. Ecco, questa è una situazione, ripeto, che mi è stata segnalata dai cittadini e sulla quale dovrò necessariamente fare gli approfondimenti del caso. Certo è, fermarestando la mia ignoranza in materia, motivo per il quale mi rivolgerò agli organi appunto competenti, quantomeno al lume di naso mi sembra una situazione davvero stranissima. Guardate ancora.